Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della Big Vanilla, il mondo con tutti quanti gli youtubers Allora, prima di tutto chiudiamo la porta perché di certo non voglio che entrino degli intrusi E adesso vi faccio vedere immediatamente come abbiamo migliorato la nave che ho costruito nello scorso episodio Ragno, non mi interrompere, sto parlando con i miei fan, smettila Tra l'altro, se mi sentite con una voce un po' diversa è perché mi sono appena svegliato, quindi buongiorno Buongiorno a tutti, perfetto, adesso sapete che mi sono appena svegliato Questa qua ragazzi è la fantastica nave che ho costruito assieme a Bella Faccia e Marci Ho fatto anche un mini porticciolo, cioè tipo una staccionata sull'acqua in modo da poter salire e scendere con molta più comodità Mi piace veramente tantissimo e non vedo l'ora di migliorarla in futuro perché sono sicuro che verrà migliorata Non appena mi verranno delle idee più belle e non lo so, non appena, cioè tipo sta roba io la voglio togliere Il timone fa... no, rimettiamolo perché sennò poi ci schiantiamo Però quel timone lo voglio assolutamente cambiare perché non mi piace per nulla Comunque ragazzi, non lo so, a me piace molto e anche a voi è piaciuta nello scorso episodio Le vele tra l'altro le ho fatte tutte quante da solo, nessuno mi ha aiutato Eh, per le vele, il resto della nave devo dire che mi hanno aiutato invece Marci e Bella Faccia Però le vele le ho fatte da solo che a quanto pare era la cosa che dava più problemi e Bella Faccia Mi aveva detto che sarebbe stato impossibile farle realistiche E invece ci sono riuscito, sembrano belle piene di vento pronte a ormeggiare, a salpare, giusto? Credo, non lo so Quest'oggi ragazzi ho intenzione di partire per una missione Perché ho visto che tutti quanti praticamente nella Big Vanilla hanno trovato il tridente Che è una cosa che io non riesco a trovare mai, cioè ma per mai intendo dire proprio zero Anche nella Candy Craft ragazzi non ci sono mai riuscito Ci ho messo sei anni per trovare quel cavolo di tridente E visto che tutti lo stanno trovando lo voglio anche io Voglio il tridente di Minecraft E nel frattempo, visto che voglio andare in esplorazione Magari riusciremo a trovare anche qualcosa per inciantare questa spada Ho i diamanti, ho un libro Sweeping Edge 3 che è piuttosto forte Ah, con lui che parla vuoi venire in avventura con me? Non so se ti conviene, forse è meglio stare qui per ora Ah, e tra l'altro lì nello scorso episodio c'era un cartello con scritto Oh, i miei diamanti E mi avete detto tutti quanti che in pratica che Noia cerca i suoi diamanti I diamanti che erano dentro la saccoccia di Nello E che misteriosamente sono spariti Ma non sono stato io, non li ho rubati Avete visto che i diamanti che ho nella mia cesta sono gli stessi che ho trovato con bella faccia nell'episodio in miniera E ciò significa soltanto una cosa Che in questa storia sei mischiato qualcuno Sì, qualcuno deve aver visto l'episodio in cui rapivo Nello l'asinello Nel video ho fatto vedere che c'erano 15 diamanti dentro la sua cesta E evidentemente li ha rubati Quindi non date la colpa a me, io non c'entro nulla Che sta succedendo? Che cos'è qua? Ehm... Cosa? Ciao? Non voglio ucciderti perché io ultimamente sono stato responsabile di diversi omicidi Per quanto riguarda gli animali Ma che sta succedendo? Che cos'è? Dovrei chiedere a qualcuno Quindi, quindi, quindi Cerchiamo un pochettino di andare in una zona che non ho ancora esplorato Perché voglio trovare quel diavolo di tridente Costi quel che costi In questo video Troveremo Un tridente Perché io non ve l'ho mai detto Ma a me il tridente piace molto come arma Il problema è che è talmente raro O almeno è tanto difficile per me da trovare Che quindi rinuncio sempre a ottenerlo Vado sempre per la spada e basta Uh, ma che bello Ma questa è la parte di casa di Sbrizer Costruzione da fare per i fan Bunker sott'acqua Ristorante Statua dei Friends Ok Superiamo la parte di costruzione di Sbrizer E vediamo cosa riusciamo a trovare Oltre... No, un'altra Ma è pieno di torri in questo mondo Ma di chi è quella torre là? Scusa La torre di Marci è là E la possiamo vedere anche a 100 milioni di blocchi È quella? Vuoi vedere che è un'altra torre di Marci? Quell'uomo è innamorato delle torri Anche più di me Ma qua è pieno di casette Io questo posto non l'avevo mai esplorato Chi c'è online? C'è Buddy e Nat Se qualcuno di voi sa di chi è questa torre Fatemelo sapere per favore nei commenti Non è... Non è firmata Potenzialmente è la torre di nessuno Potrebbe diventare mia Faccio un cartello Scrivo torre di Kendal Ed ora in poi diventerà mia No, vabbè Sono sicuro che sarà di qualcuno Ovvero di chiunque abiti qua Forse Nat Nat No, vabbè Ma ancora? Altre costruzioni? Ma perché sono così lontani? Casa di Nat Ecco, sì Toc, toc Permesso? Ma che belline queste casette Io non le avevo mai viste Sala dell'Enchanting No Bravo Bravo Ottimo il Mettonut Bravo Ciao Bella torre Adesso è mia Vediamo che dice Ma No, 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 no Ok, è tua, è tua È tua, è tua Sta tranquillo Sta tranquillo Non serve minacciarmi con l'arco Ok, bene Quindi credo di aver superato le zone esplorate Quindi tra non molto dovrei riuscire a trovare Un posto che non è stato ancora esplorato da nessuno Beh, adesso almeno se non altro sappiamo dove abita Di cosa ho bisogno? Tutti hanno trovato questo cavolo di tridente L'ha trovato Marce L'ha trovato Che Noia Non mi sorprenderei se l'avesse trovato anche Bella Faccia E anche i two players Quindi dobbiamo andare alla ricerca degli affogati Per trovare gli affogati abbiamo bisogno di un oceano Per trovare l'oceano abbiamo bisogno di Ehm Boh, di camminare fino a quando non lo troviamo Ehi, se non hai ancora lasciato un mi piace a questo video della Big Vanilla Che stai aspettando? Ah Oh cavolo Ehm Facciamo che per adesso li ignoriamo Tututu C'è un modo per diventare amico con la bestia dei pillager? Dai, sono sicuro che un modo ci sarà sicuramente, no? Certo che sono stupido Avrei potuto utilizzare l'oceano dove c'è la barca E invece sono andato totalmente in un'altra parte Però, non lo so, per qualche strano motivo Il mio sesto senso mi ha detto di venire qua E il mio sesto senso non mi delude mai E fu così che sarò morto in questo episodio Ed eccoci arrivati Il grande blu Il mare Bene Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare alla ricerca degli zombie annegati O affogati Come si chiamano? Affogati In inglese si chiamano drowned Quindi sarà affogati, no? Ehm Facciamo così Mi faccio subito una barchetta E non devo fare altro che Guardare in giro e vedere se trovo degli zombie sott'acqua Dopodiché non ci resta che pregare E sperare che ci droppino il loro tridente Mi è sembrato di sentirne uno Là c'è un veliero Un deli... No, non un delitto Un relitto, ecco Un relitto, ecco Quale è la parola Ma che figata Ok, fermi Scendiamo giù Tuffiamoci Vediamo che troviamo Apriti Apriti Perché non si apre? Perché non si apre? Ah, stava laggando Ok, devo risalire in superficie Andiamo Delfini Aiutatemi Ok 3, 2, 1 Eeeh Giù Nat è uscito dal gioco Perfetto Ne potrei approfittare per rubare la sua torre Allora Non vedo nessuna traccia degli annegati Però questo bel portale sott'acqua Onestamente No, vabbè Ma guardate qua Incredibile Cioè Praticamente completo Mancano due blocchetti di ossidiana Per averlo praticamente completo Questo sarebbe una mano santa Nelle speedrun Immaginate trovare un portale del genere Nelle speedrun O nelle menante Che io sappia C'è sempre almeno una cesta nascosta Ed eccola qua Con una mela d'oro Non male Un unbreaking Due in oro Via Cioè no, vabbè ragazzi Ho trovato pure l'ossidiana Dentro la cesta Il che significa che questo portale Lo potrei completare praticamente Potremmo andare nel nether Anche se ci sono già andato Quindi non ci andremo Va bene La mia missione ragazzi È quella di trovare Un cavolo di zombie Annegato E di rubargli Il tridente Possibile che in tutto l'oceano Non ce ne sia neanche uno Cioè nella Candy Craft 30.000 pronti a uccidermi Qua zero Ehi Johnny Aspetta un attimo Ma quella là è una struttura Sono sicuro che là dentro Troveremo un annegato Sì 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 Li vedo Li vedo Ok Facciamo pit stop Fermi qua Ciao Qualcuno di voi Ha un tridente? Mi serve il vostro capo È possibile parlare con il manager? Ok Iniziano a spuntare Quatti quatti Piano piano Tutti quanti E tu sei ancora più inutile Oh mio dio Ho trovato un tempio marino Ecco Quello sarà un po' difficile Da sconfiggere Quindi facciamo che magari Oh Ho un'idea Lo potrei fare in gruppo Con tante persone Ma perché hai trovato pure Una mappa del tesoro? Quando l'ho trovata? Uè In fondo al mar Oh Ma che fortuna Molto bene Prendo volentieri tutta questa roba Qua invece cosa abbiamo? Ma perché questo non si apre mai? Apriti Allora Io non voglio avvicinarmi là Perché sono sicuro che Mi faranno secco Tutti i guardiani della notte Vabbè Quei tipi strani E tu hai un tridente Ma che cavolo ci fai con una canna rapesca? Scusa Voglio il tridente Dammi il tridente Info Comunque sono più divertente da appena sveglio Dovrei iniziare a registrare tutti i miei video da appena sveglio La seconda cesta dovrebbe essere quella ricca Quindi dov'è? Dove si nasconde? E qua Eccola Trovata Cosa ci abbiamo? Vabbè È ricca insomma Vabbè dai Meglio di niente Nah Meglio di niente Oh Nelfino No Nelfino sono bloccato Aiutami Fammi uscire da qua Usciamo Usciamo insieme Usciamo insieme Oh Ma ci sarà Ha uno stupido zombie sott'acqua con un tridente Io ormai sono praticamente a 20.000 leghe lontano da casa mia Le tartarughe Ma cosa me ne faccio delle tartarughe Salve signora tartaruga Lei ha visto per caso uno con un tridente? No non uno con tre denti Uno con Vabbè ma che ci parla a fare con le tartarughe Non capiscono nulla Lo sanno tutti Oh 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 Cos'hanno visto i miei occhi Andiamo giù Ma tu non hai un tridente Ma perché non hai un tridente eh? Perché non conti abbastanza tra quelli del tuo gruppo Eccoli Eccola gang del tridente Siete qua sotto voi Tu non ce l'hai Tu non ce l'hai Tu non ce l'hai Ma è incredibile Visto? Che vi dicevo ragazzi? La mia solita fortuna Ci ho messo Oh 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 No 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 Eccola la mia solita fortuna Vieni qua tu Cosa pensi di fare? Pensi di attaccare un imperatore Con quello sporco stuzzicadenti? Droppamelo È mio Ok non l'ha droppato Però è già un progresso ragazzi Sì 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 Qua riuscirò a trovare ciò che cerco È forse vero? O sto forse mentendo? Riuscirò a trovare il tridente Ah Beh una candela pesca con fortuna del mare treno Non mi dispiace E lì c'è un altro portale con un bel blocco d'oro Allora tu vieni con me Ti chiamerò Willy Allora forse qua Sì 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 Forse qui avremo un po' più di fortuna Due blocchi d'oro Già promette bene Bazinga Ok voi morite Io nel frattempo mi prendo tutti questi tesori Piccone con fortuna 3 Ammazza No ma non è possibile Riuscirò a trovare il tridente Prima che si faccia notte di nuovo Ecco questa sì che è una barca Bella faccia Prendi ispirazione La prossima volta che provi di aiutarmi Ok Aspetta Fatemi respirare Forse respiration Ho però un bel Metto respiration Che dite? Allora visto che sto facendo una missione sott'acqua Mettiamoci l'elmetto con respirazione Così almeno Dovrei riuscire a stare sott'acqua per più tempo Sì infatti hai visto? Ciò mi permetterà di trovare Mamma mia quanto sono brutto questo elmetto Dicevo ciò mi permetterà di trovare Il tridente Ho un villaggio Un villaggio sull'acqua Cioè anche quello mi va benissimo Ma che cavolo È la prima volta che vedo un villaggio così Bellissimo C'è qualcosa qua? Salve No Niente ragazzi Comunque la mia fortuna con i tridenti È pari a zero Non riesco mai Dico mai a trovarli Allora questo qua è mio Perché mi è stato rubato Tempo fa da Steph Quindi voglio quella campana E la metterò al collo di bella faccia Ma sto villaggio è una figata pazzesca È letteralmente sul mare Dai non voglio rovinarvi la festa Fate quello che volete Io non Non vi razierò So di aver detto che avrei trovato il tridente In questo video Costi qualche costi Però Sto già registrando da 36 minuti E non ho trovato ancora nulla Dovremmo cercarlo in un altro episodio Sbaglio O mi sembra di vedere uno con tre denti là sotto Sì 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 Ma che Ho fermato il tempo Ho fermato il tempo Oh E così tu stai approcciando me L'imperatore Adesso te la faccio pentire Dammi col tridente Dammi col tridente Ok no Ora siete in troppi Ora siete in troppi No 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 Fermo Fermi Aiuto No No Ho perso tutto Sono morto Non ci credo No dai non è possibile Non è possibile Ma stiamo scherzando? Cioè prima non ne trovo neanche uno E poi ne trovo dieci Subito dopo una laggata gigante No non è possibile Cosa devo fare adesso Non so neanche dove cavolo mi trovavo Cioè ero lontanissimo Il video finisce qua Ciao